Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono il radiologista Cancelletto1, farò la recensione di un film del 1932, La Mumia, una mummia egiziana attraversa le strade del Cairo alla ricerca dell'ammata principessa scomparsa, reincarnatasi nel corpo di una scienziata chiamata Helen. Il mio voto a questo film è 10, ho noto questo voto perché il film mi è piaciuto, mi sono piaciute molto le scene del film, l'interpretazione, la sceneggiatura, è di genere dell'orrore, la durata è 1 ora e 13 minuti, il regista è Carl Freund, la regia è buona, bravo regista, il paese di produzione sono Stati Uniti d'America, data di uscita in Italia 3 novembre 1933. L'attore Boris Karloff, bravo attore, nel film anche Zita, Joan, Edward Van Sloan, David Manners, Catherine Byron, Bremwell Fletcher, Arthur Byron, Leonard Muddy, Nobel Johnson, Henry Victor, C. Montag Shaw, Eddie Kane, Arnold Gray, Leland Hodgson, Pat Somerset, Will Bill Elliott, George Regas. Saluto Anna, guardate questo video, lasciate dei commenti, lasciate dei like, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, arrivederci al prossimo video, spero che questo video vi sia piaciuto.